Siamo con Mattarelli, indiscusso protagonista di questo bel match fra Stella e Real Fondi. Che possiamo dire? Sono due punti persi e un punto guadagnato secondo te? Sono due punti persi sicuramente. Abbiamo tenuto tre quarti della partita il gioco in mano e purtroppo abbiamo fatto degli errori che ci sono costati un po' cari, degli errori di posizione, incomprensioni in campo, quindi abbiamo peccato un po' su questo. Un ottimo primo tempo, sembrava che ci fossero tutti i presupposti che potete portare a casa la vittoria. Un inizio di secondo tempo in cui forse siete entrati un po' scarichi, forse non troppo concentrati. L'impressione è che la vostra squadra sia davvero ben strutturata, soprattutto dal punto di vista offensivo. In difesa però sicuramente manca un po' di concentrazione. Sicuramente oggi è mancata un po' di concentrazione, non è che manca. Abbiamo comunque dei giocatori validi che comunque hanno fatto anche categorie superiori, quindi diciamo che sono stati degli errori. Siamo un bel gruppo, siamo una squadra compatta e poi comunque abbiamo incontrato oggi una squadra che pensava più a chiudersi prima e sfruttare le ripartenze. Sono stati anche un po' fortunati, però l'hanno sfruttata al meglio, quindi noi dobbiamo rivedere gli errori che abbiamo fatto e migliorare su questo. Capitan Bolla del Real Fondi, che possiamo dire, è stata davvero una partita eccellente sotto ogni punto di vista. Due squadre che hanno dimostrato davvero di essere in salute. Dal punto di vista offensivo, tante emozioni, anche voi però probabilmente dovete migliorare qualcosa in difesa. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, però oggi mancavano persone valide, anche a livello difensivo, e abbiamo dovuto adattare la squadra per le persone che avevamo. Ho sentito l'intervista del giocatore avversato di prima, io non penso che ci siamo chiusi tutta la partita e poi ripartiamo, anzi il secondo tempo mi è sembrato più il contrario. Il primo tempo è vero, noi non conoscendoli li aspettavamo per poi ripartire, il secondo tempo si sono chiusi loro, quindi non sono d'accordo con quello che ha detto. Dobbiamo dire che nel secondo tempo, soprattutto all'inizio del secondo tempo, avete sorpreso la formazione dello Stella con delle accelerazioni improvvise, anche con delle giocate individuali sicuramente molto interessanti. La vostra squadra è strutturata secondo me per fare un campionato di vertice, tu pensi la stessa cosa o qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso, l'anno scorso siamo arrivati quindi, adesso quest'anno punteremo sicuramente alle prime tre posizioni sicuro. Come organico siamo più gruppo di quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo più individualità ma meno gioco di squadra. Quest'anno invece abbiamo un gruppo amalgamato che l'obiettivo per tutti è quello di giocare insieme, di vestirci e spesso portare a casa i tre punti.